Continuano ad aumentare le guarigioni nel Vesuviano. Solo ieri i 93 cittadini in Torre del Greco sono guariti al Covid-19. Un dato ancora più rassicurante si era portato a soli 19 nuovi contagiati. Purtroppo però un cittadino è passato all'isolamento domiciliare a ricovero ospedaliero per l'acquirsi dei sintomi. Dopo aver superato la vetta dei mille positivi, il bilancio della città del Corallo scende quindi a 901 tuttora positivi, di cui 19 ospedalizzati. Un calo dei positivi giornalieri anche a Castellammare di Stabbia. Sono 22 i nuovi contagiati a coronavirus. Tra questi ci sono solamente tre persone che hanno lievi sintomi della malattia. Alta l'età media dei contagiati, ma anche due ragazzi di 13 e 17 anni. Le guarigioni purtroppo si fermano a due soli cittadini. Resta la preoccupazione, soprattutto per il rapporto con i tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore ne sono stati processati 138, con una percentuale, quindi del 15,9%. Intanto, congiuntamente, i sindaci di Ercolano, Portici e San Giorgio hanno scelto in un aprile alla didattica in presenza le scuole dell'infanzia e le prime elementari, come invece è esposto all'ordinanza numero 92 del presidente della Campania De Luca. La reapertura è quindi posticipata almeno fino al 28 novembre, per dare la possibilità ai comuni di organizzarsi per mettere in sicurezza il ritorno fra i banchi. Una scelta che già ieri avevano intrapreso anche i sindaci di Torre del Greco, rimandando la didattica in presenza al 5 dicembre, editora annunziata, con rinvio al 30 novembre.